Io credo che oggi mettere a ferrafuoco Gaza, tra l'altro nessun crimine terroristico commesso dal gruppo terroristico di Hamas, giustifica un bombardamento in una scatola di sardine dove vi è la densità abitativa il doppio dei quartieri spagnoli di Napoli. Quindi immaginiamo che cosa significa buttare una bomba lì. Nulla, nessun atto terroristico da condannare, il più terribile, giustifica un crimine contro l'umanità. Ditemi voi com'è possibile vivere all'interno di 360 chilometri quadrati, meno della metà del comune di Roma, non poter uscire e non poter scappare dalle bombe. Ma anche i palestinesi hanno dei diritti. Ma uno mazza e qual è uno garantito?